La Regione Marche continua ad essere vicina ai nostri comuni, a tutto il territorio, anche alle pricchevole realtà comunali. Lo avevamo detto sin dall'inizio, che saremo stati al fianco dei sindaci e delle amministrazioni comunali per essere al fianco dei cittadini delle Marche, troppo spesso dimenticati nei loro bisogni primari. Opere puntuali, che sono grandi opere però per le realtà cittadine che vengono finanziate. 7.700.000 euro che vengono ripartiti sulle cinque province dalla Giunta a Quaroli per interventi sulla sicurezza stradale, sul miglioramento e l'accessibilità dei nostri comuni. Tra l'altro risorse ripartite, casualmente perché è un bando, in maniera equivalente tra il nord e il sud della Regione. 20 comuni tra le province di Pesero, Urbino e Ancona e 20 comuni nelle altre tre province del sud delle Marche, quindi Fermo, Ascoli, Piceno e Macerata. Una grande soddisfazione perché stiamo portando oltre 180 milioni di investimenti in tutti i nostri comuni delle Marche in soli 45-48 mesi della Giunta a Quaroli. Stiamo distribuendo ai comuni marchigiani per le loro esigenze, che poi sono esigenze di cittadini, circa 120 milioni di euro che equivalgono a 165 milioni di investimenti per le opere pubbliche di grandi e piccoli comuni della nostra Regione.